Nuovo colpo di scena nell'udienza per l'incendio del ristorante self-service Pesce Azzurro di Fano. In questa vicenda intricata, che abbiamo seguito fin dai primi istanti, ora spunta il piano diabolico di un omicidio. Erano pronte a tutto le sei persone indagate per il rogo, che non solo avevano l'obiettivo di mandare in fumo la concorrenza, ma volevano far fuori un pesarese ex socio in altri affari. Queste fiamme rimangono ancora oggi negli occhi e nei ricordi dei titolari, dei dipendenti e delle migliaia di persone affezionate al noto locale della marineria fanese. Il rogo, divampato a luna di notte del 15 giugno 2010, ha provocato danni ingenti alla comarpesca per almeno 500 mila euro. A questi poi vanno aggiunti mancati guadagni, visto che il self-service registra in media mille clienti al giorno e i conti sono presso fatti. Le lunghe e complesse indagini condotte dai carabinieri di Fano e dal nucleo investigativo di Pesaro avevano permesso di raccogliere indizi inconfutabili. Grazie alle testimonianze e ai tabulati telefonici che provavano i vari spostamenti della banda, sono stati iscritti nel registro degli indagati l'imprenditore fanese Giovanni Piccoli e altre cinque persone, tra cui i due proprietari di un locale concorrente e due grossi esponenti di spicco della criminalità pugliese, già pluri pregiudicati. Uno di loro avrebbe pianificato allo stesso tempo di far fuori un ex socio, oggi testimone nel processo, considerato da lui colpevole di essersi intascato soldi di un'attività che avevano in comune, portandola di conseguenza alla chiusura. Per questo inganno lo voleva vedere morto. Dall'ultima udienza, venuta davanti al giudice Paolo De Luca e ai PM Maria Letizia Fucci e Valeria Cigliola, è emerso che gli esecutori materiali erano arrivati sul retro del ristorante a bordo di un'auto presa da un carrozziere per eludere i sospetti. Le telecamere però avevano immortalato due figure a scavalcare la recinzione per entrare nell'aria. Si tratta delle persone che avrebbero piccato il fuoco usando due taniche piene di benzina. Una di queste, da 5 litri e unica nel suo genere perché acquistata all'estero, apparteneva al pesarese che volevano mettere nei guai. Per incastrarlo, infatti, dopo aver dato alle fiamme il ristorante, gli autori degli incendio avrebbero lasciato appositamente, e bene in evidenza, il contenitore di carburante per portare gli inquirenti sulle tracce dell'ex socio. Tant'è che è stato lui stesso riconoscerla durante un interrogatorio da parte dei carabinieri. Quella tanica, invece, è stata la prova che ha incastrato gli attentatori.